Ad aspettare in vano il governatore Crocetta a Villa Piccolo c'era anche una rappresentanza dei precari del movimento Giovani Lavoratori in servizio nei comuni tenebrodi, nell'attesa infinita di chiarire la propria posizione all'interno delle pubbliche amministrazioni. La proposta che il presidente Crocetta ha lanciato il 30 giugno, quando c'è stata una stazione di regionale a Palermo, di far transitare questa persona al Resais non ci convince e non l'accettiamo assolutamente, anche perché abbiamo dati del MEF che ci dicono che in Sicilia ci sono 17 mila posti vuoti in pianta organica degli enti locali e quando parlo di posti vuoti parliamo di posti full time e qui abbiamo una platea di 15 mila più altri 5 mila ASU che sono a contratto part time e che benissimo potrebbe essere assorbito. Non ci preoccupa anche la questione dell'ex provincia che sta avviando un percorso e ancora è da definire con la possibilità che quello del personale dell'ex provincia possa transitare, così come dice la norma nazionale, presso i comuni e estremotendoci dopo 28 anni di servizio prestato negli enti locali. Quindi non possiamo sicuramente stare tranquilli, anche se il momento non è quello dei più favorevoli, ma bisogna subito capire in che strada si sta prendendo. Sono sette mesi di stipendi in ritardo per i precari in servizio al comune di Capodorlando. Il sitino organizzato dall'MGL a Villa Piccolo fa il paio con la nota della CGL che parla di situazioni insostenibili e che accusa l'amministrazione di aver inviato in ritardo la documentazione relativa alla richiesta del contributo regionale. Intanto l'attesa continua. La norma regionale dice che gli stipendi vanno pagati a tutti i lavoratori dei comuni, dopodiché sullo squilibrio finanziario creato dall'anticipare gli stipendi la regione interviene con una quota parte che deve sanare appunto questo squilibrio. Purtroppo, detto da noi, diventa difficile e non si vuole credere. E ribadisco perché il comune di Capodorlando continua a sostenere la tesi che si aspettano i soldi di Palermo per pagare gli stipendi ai lavoratori.